Oggi è una giornata importante, anche i braccianti di Borgo Mezzanone hanno il loro sportello itinerante che lanciamo nella giornata di oggi all'interno della Casa dei Diritti e della Dignità Giuseppe Di Vittorio. Un altro strumento per rafforzare il percorso di tutela dei braccianti dal punto di vista salariale, previdenziale di sicurezza sul lavoro. Uguale lavoro, uguale salario!